È stato prorogato fino al 31 ottobre lo stop ai veicoli più inquinanti nell'anello ferroviario. Non potranno accedere e circolare le auto a benzina Euro 1, diesel Euro 2 e ciclomotori e motoveicoli Euro 1 a 2, 3 e 4 ruote con motore a 2 e 4 tempi. Il divieto è in vigore dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e festivi. Info sul sito del Comune alle pagine del Dipartimento Ambiente. Grazie a tutti.